Un rumeno di 39 anni residente a Delia è stato arrestato e collocato agli arresti domiciliari dai carabinieri perché deve scontare nove mesi a seguito di una condanna definitiva per evasione, danneggiamento aggravato e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Dalle carte del processo emerge che l'uomo aveva commesso i reati nella zona di Petrosino, in provincia di Trapani. Dopo la condanna in primo grado aveva beneficiato della sospensione condizionale della pena, che però gli è recentemente stata revocata per altre vicende nelle quali è stato coinvolto, almeno secondo quanto riportato negli atti dell'ufficio esecuzioni penali della procura di Marsala, che ha disposto l'arresto con applicazione degli arresti in casa.